Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Punti al passaggio di 120-62-47. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Punti al passaggio di 120-62-11. Grazie a tutti. Punti al passaggio di 120-62. Punti al passaggio di 120-61. Punti al passaggio di 120-62. Punti al passaggio di 120-62. 111-11. Punti al passaggio di 120-62. Punti al passaggio di 120-61. forza a tutti. e c'è un tentativo di recupero dal parto del gruppo punti al passaggio 111 69 dai ragazzi dai 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 non d'anno grandi punti il gruppetto di testa continua a mantenere le sue distanze quando suona la campana del meno 7 anzi sta recuperando pian pianino sul gruppo punti di meno 6 a passaggio 111 61 di doppia no Grazie a tutti. Punti al passaggio, cielo e origini sessuali da voi di tutti i tuoi. L'adletto numero 8 è tu, entra in difida. Stare in mezzo al gruppo, devono soppare odio. O in volando, o dietro, o davanti, o dovete vedere. Non possono stare in mezzo. Vai, vai, vai. 111,69, un'ultima passaggio. Questa è la campina dell'ultimo giro. 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 Questa è la campina dell'ultimo giro.